La partita è stata una partita equilibrata, le squadre si sono annullate più a livello tattico che a livello agonistico perché il Gubbio è una squadra che gioca un buon calcio e per noi era fondamentale togliere dei punti di riferimento siamo riusciti e per questo devo dire bravi ai miei giocatori non è stata a livello estetico una bella partita però ci sono state letture tattiche importanti e questo per noi allenatori sicuramente è positivo Il Gubbio mi piace la compattezza, l'idea di calcio e l'organizzazione non è a caso sesta, a grandi meriti e anche l'Albino Lefe sta facendo bene ma io dico la squadra per come si è espressa nei suoi 13-14 giocatori che hanno giocato più tutti gli altri mi sono piaciuti, devo dire la verità, tutti Quindi il risultato è giusto? Secondo me il risultato è giusto ha avuto un paio di palle, una palla importantissima il Gubbio che ha preso la traversa abbiamo preso anche noi, è stata più una palla diversa però alla fine penso che il risultato sia giusto è un buon punto per noi uscire da qua giù, tornare a casa con un buon punto questo è molto importante e molto significativo a me è deciso giusto